L'uomo Giovanni Piovasco si è miracolosamente risvegliato dopo 31 anni. Lavia. Hai avuto un incidente il giorno dei funerali di Berlinguer e hai dormito a lungo. Quanto? 31 anni. Giorni? Anni? No. Ma lei dov'è? Non lo so. Ma secondo te si ricorda tutto tutto? Possiamo cominciare a raccontarti com'è cambiato il mondo? In meglio o in peggio? Forse è soltanto tu ce lo puoi dire. Berlusconi? Quello delle televisioni? Presidente del Consiglio? Ma che davvero? L'Unione Sovietica non esiste più, neanche il muro di Berlino. A proposito, chi è il segretario del PC? Portami a via delle botteghe oscure. E che c'è a via delle botteghe oscure? Che c'è? Ti assicuro io non sono una merda e non lo è nessuno in questa storia. Eccomi, sono tornato. Bonbon di crudo di mansofassona su spugna di liquirizia e creme fraiche. Io non ci ho capito mai il po' di quello che hai detto. Non ci ho capito mai.